dopodiché un altro modo per assicurarsi di non far fuggire le persone o comunque di non creare dei risentimenti è questo cioè quando a un certo punto si apre magari una nuova posizione magari di developer o addirittura anche sito o altre forme intermedie prima di cercare all'esterno la raccomandazione è quella di cercare all'interno se possibile perché anche questo qui si ricollega poi al concetto di prima di progressione di carriera opportunità di carriera dobbiamo cercare di avere una mentalità di promozione delle persone all'interno quindi cosa significa però anche conoscerle bene queste persone quindi si ricollega anche questo qui ai punti di prima quindi questo qui sicuramente è un altro di quegli elementi che collegati alla statistica visto prima portano ad una developer experience migliore perché nel momento in cui invece capita che facciamo una funzione importante di creare un senior developer quando magari già dentro l'azienda abbiamo persone che possono ambire seriamente ad esserlo ecco nel mondo tech questa cosa spesso crea dei risentimenti importanti spesso anche dimissioni a catena sono tanti gli effetti più o meno diretti e indiretti di cose di questo genere quindi questo qui è un altro fattore da considerare grazie a tutti